Teresa aspetta che esce il marito e telefona l'amante. Arriva l'amante mentre stanno facendo l'amore e a un certo punto un drin dron bussa il campanello Oddio chi è? Chi è? Chi è? E' il mio marito. Allora l'amante per fare presto apre l'armatio, si chiude nell'armatio e rimane fuori con i testicoli. Entra il marito e vede la moglie tutta nuda, tutta agitata. Dice amore che è successo? Perché sei così agitata, sei nuda. Dice no amore mio è la pressione, mi è salita la pressione e stava spogliata perché sentiva un caldo. Si mette vicino a lei e a un certo punto cade l'occhio sui testicoli che escono fuori dall'armatio. Dice amore ma che cos'è? No amore amore sono andato ieri a un negozio che si è aperto nuovo, sono delle campanelle. Dice ah le campanelle? Si avvicina piano piano sempre di più a un certo punto. Dice ma queste non suonano e ancora. D D D D D D D. Dice amore ma queste non suonano. A un certo punto si apre l'armatio e si scorreggia. Tutto a posto, scontenta.